Ciao a tutti, oggi faremo delle urmachine con il biscotto arrotolato. Spalmiamo la nutella su tutto il nostro pan di spagna. Una volta che abbiamo spalmato la nutella su tutto il nostro impasto, possiamo farci aiutare dalla mamma ad arrotolare e tagliare il rotolo. Spalmiamo la nutella su tutto il nostro pan. Adesso inizieremo a comporre una lumaca. Prendiamo due pezzi. Uno lo srotoliamo un po', in modo che sia la base dell'altro rotolo. Continuiamo così fino a che non saranno finite tutte le urmachine. Adesso prendiamo due smarties dello stesso colore e con un po' di nutella che metteremo dietro andremo ad attaccare sulla faccia della nostra lumachina. Adesso pratichiamo due buchi sulla testa della lumachina dove, fatte con della liquirizia, andremo ad attaccare le antenne. e per finire, spolveriamo con lo zucchero vero. Spero che il tutorial di oggi vi sia piaciuto. Ricordate di cliccare mi piace e guardate la nostra playlist. E ricordatevi anche di iscrivervi al canale ItalianCakes. Arrivederci!